Allora, rieccoci con la dottoressa, stiamo parlando di melanomi, ci spieghi un attimo allora le tipologie dei melanomi, l'importanza di intervenire preventivamente ma anche rapidamente. Un attimo che è arrivato un messaggio, prima di andare ad un dermatologo quali nei dovrebbero essere oggetto di osservazione? Allora, i nei che devono essere oggetto di osservazione sono quelli che si manifestano ex novo, cioè uno vede un neo in una sede del corpo dove prima non l'aveva mai visto e i nei già presenti che si modificano. Quali modifiche? Di colore, di forma, di bordi, di dimensioni. Quindi qualsiasi modifica che lo porti a essere asimmetrico, non uniforme, va segnalata. Non è necessariamente una modifica, un indizio, questo è un melanoma, ma un neo che si modifica va controllato in dermatoscopia. Ancora di più se c'è prurito o se c'è sanguinamento, anche se il sanguinamento è provocato da uno sfregamento o da un incidente. E questi sono però segni già più tardivi, quindi non è che bisogna aspettare che sanguini per andare, qualsiasi modifica. E' chiaro che questo è possibile farlo sui nei del tronco che si vedono, è più difficile sui nei del dorso. Sui nei del dorso bisogna avere un amico, un'amica, un compagno, qualcuno in famiglia o fuori dalla famiglia che ti controlli. Perché ti conosca la tua cute e che ti controlli. Questi sono i nei. Poi dipende appunto dal tipo di pelle, dall'età, cioè è difficile vedere un melanoma prima dei 12 anni, melanoma è un tumore di tutte le età, ma non è un tumore dell'età pediatrica e già sotto i 18 anni i casi sono rari, però diciamo che dei 12 anni in poi ci possono essere ed è un tumore che poi cresce con l'età. Però ecco, voglio sottolineare un aspetto importante di questa malattia che è meno frequente e di altri in oncologia, però pesa socialmente. È al secondo posto nei maschi da 0 a 49 anni, dopo i tumori del testicolo, è al terzo posto dopo i tumori della mammella e della tiroide nelle donne. Cosa vuol dire essere in quei posti da 0 a 49 anni? che va a coinvolgere la sfera sessuale e la fertilità e quindi quando abbiamo bisogno poi di trattamenti e di cure se la malattia non è guarita chirurgicamente in fase iniziale, dobbiamo affrontare anche questo problema perché siamo nell'età fertile. E questo è bene ricordarlo perché c'è una stretta correlazione tra il tipo di trattamenti che vengono fatti e la possibilità poi. Sì, ci possono essere trattamenti che comportano una riduzione della fertilità e vanno discursi, va programmata la criopreservazione, sono problematiche che vanno affrontate non solo, ma nelle donne ci può essere la diagnosi in corso di gravidanza e questa è una situazione ben classificata, conosciuta, standardizzata con delle linee guida, ma che va ovviamente seguita in centri specialistici perché non è una situazione usuale e ci può essere la decisione faccio una gravidanza dopo la diagnosi, quindi sono e quanto tempo aspetto, considerando che l'età si sposta sempre di più nella scelta di una donna di una gravidanza per diversi motivi e lo sappiamo e quindi ci troviamo che magari c'è l'orologio biologico, la malattia che è appena stata diagnosticata, sono problematiche che devono essere comunque affrontate, che sono presenti e problematiche che richiedono anche lì collaborazione col ginecologo, con lo psicologo, con l'intera famiglia, perché non è una decisione che può prendere la paziente da sola, perché deve essere comunque supportato, cioè è chiaro che la decisione è sua, ma gli altri devono garantire il supporto alla sua decisione e soprattutto devono darle le informazioni precise perché la sua decisione sia consapevole. Bravissima, informazioni precise, questo è molto importante perché uno capisce cosa gli aspettano, perché tante volte si va per step però non si capisce bene fin dove bisogna arrivare. C'è un messaggio che volevo leggere che è arrivato poco fa da qualche nostro telespettatore o telespettatrice, non lo so, adesso vediamo comunque, l'evoluzione di un melanoma, quanto è veloce da quando viene scoperto? E qua si rinnesca in questo meccanismo. Questo è diverso a seconda dell'aggressività biologica e quindi del DNA di quel melanoma, è come quando uno ha tanti figli, ognuno è diverso dall'altro, perché comunque pur essendo la stessa famiglia le combinazioni di DNA non sono le stesse, quindi ci sono melanomi molto veloci che hanno, dal punto di vista istologico, un indice mitotico elevato, cioè hanno tante cellule che al microscopio in un millimetro quadrato si stanno duplicando, riproducendo e quello è un melanoma che se non è guarito, se è presente, ha una velocità di crescita più elevata. I nodulari sono più veloci di quelli a evoluzione superficiale, a diffusione superficiale e a volte sono più veloci quelli sottungueali, che chiamiamo oacrali, quelli a livello di piedi e di mani, ma sono più frequenti i piedi della mano, e i melanomi mucosali, quelli che sono rari, sono più frequenti in Cina, in Giappone, in Corea, perché hanno un altro fototipo, un altro tipo di pelle con un'altra resistenza ai raggi solari. Il melanoma mucosale più frequente da noi è quello delle cavità nasali e della vagina, però può esserci in altre sedi. Sono forme rare, ma sono forme particolari di melanoma. Le più comuni, ripeto, sono quelli della pelle, poi esiste il melanoma dell'occhio. Anche. La coroide, che è un'altra forma particolare di melanoma, e può essere a crescita molto indolente nelle fasi iniziali, e può essere a crescita indolente anche se non guarito, perché guarisce nell'occhio, ma può dare recidive anche dopo tanti anni. Quindi ogni forma ha delle caratteristiche diverse. Poi è chiaro che non abbiamo della singola lesione tutte le conoscenze possibili che potremo avere, e si sta cercando a livello mondiale di arrivare a questo con l'intelligenza artificiale, cioè mettendo insieme tutte le conoscenze possibili e cercando di aiutare la diagnostica in questo modo. Ci sono tantissimi gruppi che ci stanno lavorando, alcuni sono anche a un buon avanzamento, però poi dovranno essere testate nella pratica clinica. Assolutamente. quanto è il loro apporto nella diagnostica e nella previsione. Questo è un altro aspetto importante. Io leggo un'altra domanda che ci è arrivata questi giorni fa. In presenza di asportazione di melanoma in situ, con esame istologico negativo, quale sarebbe il procedimento da seguire? E quindi le informazioni che lei diceva che bisogna conoscere. Se un melanoma in situ, il margine è negativo ed è almeno di 2-3 mm, si può anche limitarsi a questo. Se il margine è proprio al limite, è meglio comunque un allargamento a 0-5 mm, quindi a mezzo millimetro. Questo è il massimo, cioè il massimo, è quello che si può fare. A 5 mm, scusi, ho sbagliato. A 5 mm. E la sorveglianza di quel paziente, perché comunque quello melanoma guarito, la sorveglianza dermatologica, non oncologica. però è un segnale che l'acute di quel paziente è a rischio, che quel paziente ha qualche cosa nel suo DNA che facilita questa malattia o che comunque lo predispone e quindi va controllato, perché se non controllato può avere altri melanomi che sono invasivi, non in situ. Assolutamente. Per cui c'è un fattore di familiarità? C'è un fattore di familiarità, c'è la predisposizione genetica, ci sono diversi geni che sono implicati, il più frequente è il CDKN2A, che è presente in circa il 20% delle famiglie che hanno più melanomi, che hanno almeno due casi di melanoma. La predisposizione ovviamente viene valutata studiando il DNA a livello dei linfociti, perché la predisposizione si eredita in tutte le cellule, non è nelle cellule di melanoma. Essendo ereditaria è in tutte, quindi basta un prelievo di sangue, si fa su un soggetto che abbia il melanoma e che abbia avuto almeno un altro caso di parente stretto. Ma la valutazione genetica viene fatta e si può fare anche in chi ha un melanoma in età giovanile o in chi ha più melanomi. In giovanile intendiamo fino a 45 anni. E chi ha più melanomi? Perché può essere il primo caso di quella famiglia che comunque ha il gene. Qual è il vantaggio? A differenza di altri tumori in cui possiamo avere anche degli interventi preventivi o comunque delle terapie legate alla predisposizione familiare, nel melanoma non possiamo fare interventi preventivi, possiamo solo fare una sorveglianza stressa perché non possiamo tirar via tutta la cute ovviamente. è impossibile vivere senza la cute. Però si può fare la sorveglianza, si possono sorvegliare tutti i familiari e questo viene fatto gratuitamente, cioè con l'esenzione dal ticket che la Regione Veneto garantisce per chi ha la predisposizione familiare accertata. Quindi è una sorveglianza più precisa e gratuita. Assolutamente, questo è importante saperlo. È rischioso fare un istologico? Potrebbe far aumentare la crescita e farlo partire in altre parti del corpo? Questa è una vecchia idea con cui mi sono confrontata quando ho iniziato a fare il medico perché probabilmente nel passato si diceva ha tolto un neo e poi è morto. E da questa osservazione molto semplice penso sia nata questa idea se non lo toglieva in realtà probabilmente era perché è stato tolto un neo molto avanzato non è stato sufficiente l'asportazione a evitare un decorso che soprattutto tanti anni fa magari non era modificabile. In realtà non esiste nessuna evidenza in questo senso e anzi l'asportazione garantisce la guarigione e la garantisce quanto più è iniziale. Ovviamente non garantisce la guarigione anche se comunque rimuove il primitivo se le cellule sono già andate in circolo perché il chirurgo rimuove la lesione non può aspirare il sangue e pulire il sangue. Oggi come oggi non abbiamo questa possibilità. Quindi lì si analizzano i linfonodi? Viene analizzata la via di diffusione linfonodale con la ricerca del linfonodo sentinella che consiste nell'iniettare attorno al neo asportato prima di fare l'allargamento un radiocolloide di solito albumina marcata a basse dosi che è associata poi il giorno dopo a un colorante vitale. Si vede qual è il linfonodo di drenaggio con una linfoscintigrafia il chirurgo lo va a rimuovere con una piccola incisione viene analizzato in un modo molto più approfondito che quando si toglievano tutti i linfonodi per equazionalmente in passato e se ci sono cellule in quel linfonodo abbiamo l'informazione che in quel melanoma c'è stato un cammino al di fuori della lesione. Quindi abbiamo un'informazione più precisa sullo stadio perché non è quello della lesione iniziale ma è quello più linfonodo o linfonodi e quindi anche sui rischi che la malattia possa tornare fuori anche se quell'infonodo è stato asportato e l'indicazione a fare trattamenti adiuvanti come in altre neoplasie che sono stati studiati in queste situazioni ed è stato dimostrato che riducono, sottolineo, riducono, non annullano le rischio di recidiva però sottolineo anche che lo riducono di quasi il 50% negli studi quindi non lo riducono di poco ed è importante questo ed è importante e durano un anno sono gli stessi trattamenti che possiamo fare quelli commerciali, quelli autorizzati nella malattia avanzata ma qual è il vantaggio di farli prima? intanto che non devo affrontare la recidiva che psicologicamente è sempre destabilizzante secondo che per quanto impatti sulla vita il trattamento, sul lavoro soprattutto nelle persone giovani abbiamo detto che la frequenza da fino a 49 anni è elevata della malattia dura un anno e mentre se c'è la malattia presente il trattamento dura anni quindi è molto più impattante psicologicamente ma anche proprio come necessità di cure chiaro ecco, qualora ci fosse stata invece una diagnosi abbiamo visto positiva invece negativa invece l'esame istologico fosse positivo, dottoressa? no, non ho capito l'istologico è positivo e l'infonodo è negativo? no, no, no prima dicevamo, la domanda mi chiedeva se un esame istologico negativo quale sarebbe il procedimento da seguire lei mi ha detto una cosa anche abbastanza si rimuove e tranquillo se invece dall'esame istologico risulta che è un tumore cioè che è un melanoma allora se un melanoma bisogna guardare bene l'esame istologico in base allo spessore viene programmato l'allargamento con un diametro che fino a 2 mm è di 1 cm e dei 2 mm di spessore in su è di almeno 2 cm quindi questa è la cosa quindi l'allargamento va fatto contestualmente all'allargamento se è da 0,8 mm quindi meno di 1 mm si fa l'infonodo sentinella contestualmente all'allargamento e la stadiazione del paziente a seconda appunto cioè in quel momento quando ho il tinoe diciamo cioè il t è il tumore quindi ho tutte le caratteristiche istologiche del neo asportato o del nodulo asportato e risulta un melanoma e quando ho il sentinella fatto se c'era l'indicazione a farlo e ho la tac se c'era l'indicazione a farla ho tutti gli elementi per fare lo stadio completo cioè T tumore, N linfonodi, M metastasi nel 90% dei casi ci fermiamo al T perché N è 0 e M è 0 e questo vuol dire essere in quel 90% che sta bene poi per questo è importante la diagnosi precoce se ci sono i linfonodi coinvolti ci fermiamo all'N e quindi siamo nel terzo stadio e qui abbiamo trattamenti adiuvanti oltre alla chirurgia che vengono considerati e proposti al paziente ovviamente il paziente in un terzo stadio può essere guarito può recidivare noi non abbiamo un criterio cioè un criterio un esame che ci dice con certezza questo paziente è guarito questo paziente recidiverà perché il comportamento non è prevedibile al 100% quindi la terapia a quel punto viene discussa è scelta col paziente perché non possiamo dire il paziente deve fare la cura perché può essere guarito e non possiamo nemmeno dirgli no è inutile che la faccia perché può essere guarito quindi dobbiamo discutere i rischi e quello è il momento più difficile perché a volte è la prima visita il paziente ha già fatto l'asportazione ed è risultato melanoma è già il primo impatto devastante poi pensava tutto finito deve fare l'allargamento poi il sentinella poi il sentinella è positivo poi deve venire dall'oncologo e l'oncologo gli dice no non è finita c'è la terapia adiuvante e la prima cosa che dice è ma allora non è finita mai io interrompo perché qua terapia adiuvante spieghiamo anche di cosa si tratta perché in termini tecnici la terapia adiuvante devo andare in pubblicità per cui mi ricordo e darle tempo allora qualche secondo poi ritorniamo con la dottoressa tra poco ok grazie a tutti